Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare della delusione. Tutti prima o poi rimaniamo delusi da qualcuno o qualcosa. È inevitabile, purtroppo la vita è così. Ma perché rimaniamo delusi? Io ho una mia teoria. Secondo me la delusione è un qualcosa che nasce quando crediamo di conoscere quella persona, ma invece non la conosciamo affatto. Oppure quando ci rendiamo conto che quella persona non è disposta a fare quello che noi faremmo per quella persona. Quindi, nel primo caso faccio un esempio. Ad esempio noi crediamo di avere a che fare con una persona simpatica, dolce, affettuosa. Ma invece poi scopriamo che questa persona è soltanto un manipolatore, quindi ci sta manipolando e rimaniamo delusi. Perché noi credevamo una cosa per un'altra. Dal proposito intenziono pure di fare un video su questo argomento, ma magari più in là. Vediamo. Perché altrimenti poi se mi metto a fare un video adesso sui manipolatori succede che questo video non avrebbe più un senso. Nel secondo caso invece faccio un esempio, un esempio che mi riguarda molto da vicino. Io fin dall'asilo ero sempre una bambina buona, dolce, affettuosa, gentile. Quando facevo il compleanno tutti erano invitati, tutti. A qualche mia amichetta magari non aveva la penna, glielo prestavo. Non avevo il colore, glielo davo. Non avevo problemi. Poi magari quelle cose che io prestavo, non le rivedevo più. Che fine ha fatto? Non si sa. Però poi alla fine arrivavano che queste persone facevano i compleanni, magari io venivo esclusa, ma per un motivo, ma per un altro. Magari mi serviva il colore a me, non me lo davano, con mille scuse e altro. Ecco cos'è la delusione. In questo caso, nel mio caso, è stata una delusione più che altro di me stessa. Perché io giustamente dicevo, eh ma sono sempre buona, gentile, con tutti. E questo è quello che merito? Una cosa è certa, che la delusione colpisce maggiormente le persone che sono come me. Detesto ammetterlo, ma è così. Perché le persone che sono meno fregriste, quindi che pensano solo a loro, anche a loro succede. Non è che non succede, soltanto che queste persone non ci fanno caso, perché anche loro si comportano nella stessa maniera. Più che altro se lo lasciano scivolare addosso. Però per persone come me, che casomai danno il cuore alle persone, per poi ricevere soltanto fregature, in quel caso, sì che si rimane feriti. Vi ho raccontato soltanto degli episodi che in realtà erano... sono successe alle elementari, però ne avrei tanti altri di delusioni che ho avuto nella mia vita. Poi, chiaramente, c'è anche la delusione d'amore, che io non ho subito. Non ho subito perché? Perché tra me e il mio fidanzato va tutto bene. Poi lui, essendo stato il mio primo fidanzato, quindi non è che ho subito delusione d'amore. Però so che in quel caso la delusione d'amore è più che altro quando c'è di mezzo un tradimento. Cioè, quindi, quando uno dei due tradisce l'altro. Perché? Perché quando si sceglie una persona è giusto stare solo con quella persona. Non è bello andarsene con altri. Ad esempio a me, tempo fa, per carità non faccio nome perché non mi va di farlo, c'è stato un tizio che mi ha scritto. Sai, sei una ragazza molto carina, mi piaci molto. E io l'ho messo al suo posto dicendo, sì, ti ringrazio, però sono fidanzata. E che fa? Pure io sono fidanzato. Ah, e sai, io non sono molto fedele. E io gli ho risposto. Gli ho risposto. Eh, mi dispiace per te perché io sono fedele al mio fidanzato. E poi se fossi veramente innamorato della tua fidanzata non faresti questo. E poi la conversazione finisce qua. Immaginiamoci un po' se questa ragazza, la fidanzata di questo tizio, avesse letto quella conversazione. Sarebbe sprofondata in uno stato di delusione totale. Cioè il suo fidanzato, l'amore della sua vita che voleva provarci con un'altra, in questo caso con me. Però anche magari con qualche altra. Mi dispiace per questa tizia. Però chiaramente io non voglio entrare in merito perché no. Perché io penso che queste cose è giusto lasciare le cose come stanno. Perché non so se faccio bene o no dire alla ragazza guarda sta a tendere il tuo fidanzato perché è così. Non lo so. È come se mi sentissi una persona orribile. Però dall'altra parte mi rendo conto che questa ragazza è solo presa in giro. Quindi questa è la delusione più grande che si possa provare. Perché un conto è soffrire avere una delusione di... da parte di una persona che comunque conosci, ti è anche amica però niente di più. Ma un conto è quando tu stai con questa persona. Ci sta insieme magari anche da diversi anni. Uno si dice ti amo, ti adoro, amore mio di qua, amore mio di là. Però poi alla fine ti venga un'altra. Questa è la più grossa delusione. Io per fortuna non l'ho mai provata né voglio provarla. però... Ragazzi che vi devo dire? Se anche voi avete avuto qualche delusione, che sia d'amore, d'amicizia o altro, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi!